Senta Quadri, la Lega di Varese è ancora in piazza, come in tutta la provincia, dà le parole ai fatti, non è un refrain ma dovrebbe essere una considerazione importante e che voi ribadite con forza, mi pare di capire. Sì, noi siamo qui a vantare quello che stiamo facendo come governo, quello che stanno facendo i nostri ministri, i capitanati da Matteo Salvini, che sull'immigrazione ha cambiato la politica totale di questo paese, con i porti chiusi e quindi con tolleranza zero verso l'immigrazione illegale. E siamo qui anche a lasciare un messaggio forte di difesa appunto del nostro leader Matteo Salvini verso un attacco giuridico e mediatico che non ha precedenti ma che è una minaccia per tutta la democrazia italiana. Ecco, ma se queste accuse poi dovrebbero poi materializzarsi in un processo, lei come potrebbe vedere lo scenario politico nazionale? Beh, innanzitutto penso che questo politicamente farebbe rivoltare gli italiani contro questo attacco e a supporto di Matteo Salvini, perché sarebbe un precedente gravissimo di un giudizio della magistratura su un'azione politica, non su un reato vero e proprio o su qualcosa che è giuridico, ma su un'azione che è prettamente politica, come dimostra anche la difesa che ha fatto il presidente Conte di quanto fatto finora sull'immigrazione. Grazie.